Ciao a tutti ragazzi, io sono Maki ed eccoci qui con un nuovo episodio della nostra Fox Legacy. Allora, siamo nel Creon Sim perché volevo assolutamente mostrarvi il makeover della piccola Amelie che è passata ad età nell'episodio scorso, quindi direi di mostrarvela subito, è meravigliosa ragazzi, io la amo tantissimo. Ho visto che il suo colore preferito è l'arancione, quindi ho cercato di darle qualche outfit un po' più arancione. Adoro comunque che questa fascia sia perfetta con questa gonnellina e quindi adesso vi mostro un po' il suo stile. Quindi questo è il suo abito quotidiano, qui abbiamo l'abito formale che mi piace tantissimo, poi questo è l'abito sportivo. Poi c'è quello da notte, troppo troppo carino, da festa, mi piace un sacco con queste cose del kit, costume da bagno, clima caldo e infine clima freddo. Ah, questo qui e questo qui. Mi piace veramente un sacco, veramente tantissimo. E nulla, direi che adesso possiamo entrare ufficialmente in gioco. Ok, siamo entrati qui in gioco, io stavo facendo pulire e darci questi perché sono tutti avariati, quindi per favore puliscili tutti, grazie. Il nostro, che succede? Baco vuole che Nicky diventino migliori amici, d'accordo? Va bene. Allen qui sta invece riparando questo amplificatore. Di nuovo, ok, ti ho detto di sì, adesso basta, per favore. Allora, la nostra Daisy invece sta facendo i compiti, molto molto concentrata, lei qui sta ballando. Ma mi sa che sta facendo la Roomasim, infatti. Ma tu allora te ne potresti anche andare, grazie. Uh, anche lei sta facendo i compiti, ottimo. Peraltro, sono andata a vedere e lei, come personalità, per ora, perché potrebbe cambiare quando è adolescente, però per ora, ha la ESTJ. In sostanza, ragazzi, lei è tipo una Karen, per farvi capire. Però dai, adoro che anche lei stia facendo qui i compiti. Molti pensavano, e anche io inizialmente pensavo questa cosa, che Amelie potesse rivelarsi una seconda Jordan, quindi una Jordan 2.0. Però, in realtà, non so, perché mi sembra di capire che saranno molto diverse. Perché, per esempio, la nostra Jordan aveva la personalità INTJ, che è molto diversa da questa. Perciò, non so, credo che saranno in realtà molto molto diverse. In ogni caso, ragazzi, oggi è un giorno molto speciale perché il nostro Allen andrà al ballo scolastico con Sidney. Non vedo assolutamente l'ora. Qui sta aggiustando sta cosa da tre ore. Voglio vedere se magari prima uscire con qualche amico. Qui che succede? Ok, ha aggiustato tutto. Qui che cos'è? Loda, no. Vieni a buttare un attimino via questi. Ok. Potremmo vederci magari con le amiche nel pomeriggio. Perché, in effetti, le sue amiche, che sono qui, Mickey, Christy e ci dovrebbe essere anche Inid qui da qualche parte. Però non la vedo. Dov'è Inid? Ah, eccola qua. Ovviamente loro non sono suoi compagni di scuola. Non le vede mai a scuola. Perciò sarebbe carino comunque passare il pomeriggio con loro. Ma qui ci sarebbe questo da riparare. Lui sta pulendo. Fai una cosa. Ripara pure questo. E appena finisci, magari andiamo con... Usciamo, andiamo in giro con le amiche. Magari ci prendiamo anche un bubble tea. Vediamo un po'. Ok, lei qui sta continuando i suoi compiti. Ottimo. Anche lei sta continuando i suoi compiti. Lei invece continua con questa Roomba Sim. Io la lascio fare. E lui va a sistemare. Queste fette qui di... Ah, ma lei stava facendo addirittura le attività extracurriculari. Per dirvi, lei è veramente molto attenta a tutti i suoi compiti. Vediamo un po' che cosa potrebbe fare. Lei avrebbe fame? Allora, vieni qui e ti prendi gli avanzi. Ok, uno dog. Perfetto. Lui è molto giocoso. Questa cosa non mi piace, ragazzi. Perché i miei sim ogni volta rischiano veramente la morte con queste emozioni. Quindi magari poi facciamo una cosa. Quindi qui cerca anche di calmarti. Ok, qui le sta continuando. Tu stai finendo i compiti. Quasi quasi tu potresti venire a giocare a scacchi. Ok. Bene, qui ce l'abbiamo fatta. Lo faccio diventare un po' meno giocoso. E poi ce ne andiamo. Ed eccoci arrivati. Direi di salutare subito tutte le ragazze. Quindi facciamo abbraccia. Poi andiamo da Cristi. E anche con lei facciamo abbraccia. E anche con Miki. Ok, vieni qui e fai abbraccia. Dai, che non le vedevamo da un po'. Ah, qui c'è l'icona del club che non funziona perché le ho eliminate. Aspettate che magari la cambio. Mettiamo questa. Perfetto. Ok, allora avremmo anche fame. Ma lei non è l'amica. Sì, questa è l'amica di Miki. Vabbè. Entriamo qui perché vedo che sta piovendo a dirotto. Ok. Allora aspetta. Andate prima qui dentro perché... Sennò vi bagnate tutti. Che tanto lei è già qui. E poi facciamo abbraccia. Ok. Prendiamoci subito. Direi qualcosa da mangiare. Ma si dai un panino con pollo fritto. Lui non è vegetariano, giusto? Socialmente a disagio amante dei gatti. No, perfetto. Ok. Prenditi qualcosa da mangiare. Magari ci sediamo qui insieme? Hai fatto tu i compiti? Io un po'? Ah, potremmo anche fare i compiti insieme a questo punto. Dai, ma c'è anche Savanna! Forse non ci ha visti. Magari poi la salutiamo. Lui essendo socialmente a disagio non sa se è il caso tipo di disturbarla. Anche se comunque sono in buoni rapporti. Però lui è fatto un po' così. Dai, vieni qui a prenderti da mangiare che poverino stai morendo di fame. Effettivamente. Qui c'è la fiera, ma va bene. E poi facciamo sediti insieme. E proviamo anche a fare i compiti. Però prima dovresti prenderti da mangiare. Ok. E poi rifai sediti insieme. Ok, sediti pure qui. E poi facciamo fai compiti insieme. Parliamo un po' con lei. Facciamo Rallegra. Facciamo una barzelletta sui vecchi tempi. Facciamo discuti degli interessi. Dai, parliamo un pochino con loro. E' anche una conversazione profonda. Perché no? No, si sono bloccati. Ecco perché no. Ma come? Sediti qui e facciamo fai i compiti insieme. Vediamo se li facciamo. Ma perché mi rubano i posti? Scusatemi. Ok, no. Mi sa che l'unico che vuole fare i compiti, ragazzi, è lui. Perché loro lo stanno completamente ignorando. Non so se magari... Essendo che... Che succede? Sembra che Alan alla canzone piaccia. Deve accettare che aggredisce la musica pop? Sì. Ok. Savannah sta venendo a parlare con noi. Ah no, arrivederci. Ok, se ne sta andando. Stavo dicendo comunque che non vorrei... Che essendo che comunque loro appunto frequentino tutti scuole diverse... Probabilmente ora si sono un pochino allontanati. Quindi... Cioè perché vedo più che altro che... Se non sono io a farlo non interagiscono. E anche... C'è Sidney! E anche quando provo a farlo io... Vedo che poi si distraggono subito. Quindi mi sa che un po' si sono allontanati loro. Però va bene così. Non so se lui ha visto Sidney. Andiamo a che sta facendo. Potremmo venire in effetti qui a creare un look. Perché qui in questa partita non credo di averlo ancora mai fatto. E però... Sai una cosa? Lascia perdere un attimo i compiti. Perché secondo me lui con la coda dell'occhio lo ha visto. Guardalo che carino. C'è anche il festival dell'Idi Lio in città. Ok. Vieni un attimo qui sopra. E vediamo che c'è Sidney. Quindi magari facciamo un... Cosa potremmo fare? Facciamo un flirt. Sto andando bene. Facciamo un semplice flirt. Appunto fingiamo che comunque lui lo stia semplicemente salutando. Si aggiornano un attimo. E comunque si dicono che si vedranno più tardi. Perché sarà tra pochissimo il ballo ragazzi. Quindi non vedo assolutamente l'ora. Lui magari sta dicendo no. Stavo vedendo qui se c'era magari qualche abitino carino dell'ultimo minuto. Qualche completo dell'ultimo minuto. Però insomma giusto per fare un giro. Fai un massaggio. Ma cosa? Ma quale massaggio? Oh mio Dio. No. Vieni un attimo qui a creare un look. Facciamo quest'ultima cosa. E poi me ne vado a casa. Perché ho paura che magari inizi il ballo e... Che magari mentre sono qua... Non lo so. Ho paura di bug più che altro. Ok. Eccoci qua. Vediamo un po' che cosa c'è di nuovo qui. Sì. Perché per esempio questi qua... In teoria... Oh ma questo io ce lo vedo un sacco Allen ragazzi. Ma troppo. Così così io lo compro. No questo no. Questo qui sì tantissimo. Andiamo un po'. Ehm... No. Altre cose non mi ispirano. Vediamo le parti inferiori. Se c'è qualche jeans grazioso. Ecco. Questo non mi dispiace effettivamente. Così. Così mi piace un sacco. Ma proprio tantissimo. Qui non c'è nient'altro che mi ispira. Sì. Questo look mi piace un sacco. Vediamo magari qualche scarpa carina. Forse queste. Col blu? No. Col blu non mi piacciono. Col bianco nemmeno. Mmm... Forse queste. Ma in realtà non mi fanno particolarmente impazzire. Oppure queste qui. Un po' meglio. Andiamo col nero. Eh. Col nero non mi dispiacciono. Perché... Mmm... Mi sembra che si abbinino agli occhi della casetta. Le altre onestamente non mi ispirano particolarmente. Quindi metterei queste. Accessori... Non ne metterei. No. Lascerei così onestamente. Diamo magari qualche cappellino. Ehm... No. Non mi... Non mi fanno impazzire. Vi devo dire. No. Infatti. Lasciamo così. Mi piace un sacco questo look. Allora. Ho deciso di tornare a casa. Perché avevo paura. Che per via di qualche bug. Cose simili. Eh. Poi non mi facesse andare al ballo. Peraltro. Ho visto che qualcuno vuole acquistare qui. La nostra tutina. Quindi. Adoro. Un sacco. Vedo anche che c'è della posta. Prendi la posta. Non... Non scappare dentro casa. Perché c'è effettivamente una... Un temporale. Però prima di... Prima di scappare a casa. Potresti prendere la posta? Per favore. E io butto questa cacchina. Ok. Perfetto. Benissimo. A questo punto non lo faccio neanche mangiare. Adesso puoi entrare dentro casa. Perché tanto al ballo ci sarà sicuramente da mangiare. Ok. Magari fai una cosa piuttosto. Vieni in bagno. Mortimer... Ok. Ho saputo della tua amicizia. D'accordo. Vediamo cosa c'era nella posta. Che c'era nella posta? Non... Non c'era niente nella posta ragazzi. Quindi non lo so. I sim ultimamente sono un po' strani. Voglio vedere poi come gli sta questo outfit. Facciamo indossare il completo. Tu invece. Ok. Ma... Ne devo spedire tre. Ma scusatemi. Ma io mica me ne ero accorta. Allora vieni qui. No. Facciamo da qua. Spedisci su Plopsi. Questo che cos'è? Apri l'ombrello. Oddio. Ragazzi. Ma ora ho paura a far uscire Arci. Goffo come si fa sicuro a colpire da un fulmine. Oddio Arci stai attento per favore. Non farti colpire dal fulmine ti prego. Ok. Spedisci anche questa. E infine spedisci anche questa. Ok. Torna subito dentro casa. Ok. Il ballo è tra poco ragazzi. Lui è vestito così. Fai una cosa però. Toglitelo. Anche se ti sta davvero bene. Ti ci vedo un sacco. Però toglitelo perché adesso inizia il ballo. Ok. Fai rimuovi. Perfetto. E torna dentro. Perché stai qui con il temporale? Torna dentro. Che tanto ora devi andare al ballo? Ok. Lei ha un po' paura. Ci è mancato poco per il fulmine. Oh mio Dio. Ok. Inizia il ballo studentesco. È il momento del ballo studentesco. Vesiti elegante. e domina la pista da ballo con gli altri liceali. Ci sarai? Ok. Raggiungi la sede del ballo studentesco con Allen. Ok ragazzi. Siamo arrivati. Il problema è che intanto sta piovendo. E non c'è Sidney. Non so se doveva spuntare qui con me o se magari è qui dentro. Diamo un'occhiata. E questo. Ma come si è vestito? Ma perché si è vestito così? Ma scusami. Ma è il suo abito formale? No. Perché io se non sbaglio glielo avevo anche cambiato. Scusami. È questo il suo abito formale. Ma perché? Vabbè. Si era vestito in modo un po' strano. Ok. Quindi ci sta aspettando già qui dentro. Quindi io verrei qui. Perché lui è un po' preoccupato secondo me. Perché secondo me si sono dati appuntamento qui davanti. O comunque insomma già in sede. Però lui pensava di vederlo qui ed era un po' nervoso. Pensato magari non è venuto. Però in realtà abbiamo visto che è qui. Quindi proviamo a fare stringi? Non lo so. No. Facciamo magari un... Vediamo. Rivela la cotta flair. Un complimento per l'aspetto. Eccoti. Wow. Ti sta benissimo questo completo. Guardatelo è pure in imbarazzo. Guardate come sono carini. Ma possono farsi una foto insieme? Veniamo qui. Facciamo. Scatta una foto con. Proviamo romantica. Dai. Dai. Ci sta tutta. Vi prego. Fa che funzioni. Perché ogni tanto questa cosa delle foto non mi funziona. E va un po' a caso. Quindi speriamo che questa volta vada. Ti va di fare una foto? Oh mio Dio. Dai. Sta funzionando. Ottimo. Così questa foto lui se la tiene come ricordo. E poi votiamo qui per il sovrano del ballo e il giullare. Però io non penso che vinca Allen perché non credo di poter far votare se stesso. Io farei vincere Sidney però. Oh mio Dio. Adoro questa cosa. Veramente un sacco. Ok. Eccoli qua. Come è andata la foto? No. Non gli è piaciuta. Perché? Posso vederla? Ma sembra carinissima ragazzi. Ma scusatemi. Allora. Fammi andare un attimo qua. Oh. Ma come? È un po' imbarazzante in realtà. Va bene. Va bene lo stesso. Allora. Dovremmo mangiare. Quindi prenditi. Ana tra arrosto. Vabbè. Sì. Dai. Prenditi quest'ana tra arrosto. Dobbiamo ballare. Votare il sim sovrano del ballo studentesco e mangiare qualcosa. Iniziamo col mangiare. E poi votiamo. Sì. Io voterei Sidney. Ok. Dai. Votiamo Sidney. Ma loro fanno i compiti al ballo studentesco. Ma scusatemi. Ma in che senso? Ma perché? Vabbè. Poi direi che possiamo sfoggiare l'outfit. C'è anche il primo bacio. Ma quanto sarebbe carino ragazzi. Allora. Sfoggia l'abito dovrebbe essere qui da qualche parte. Vediamo un po'. Sfoggia. Sfoggia l'abito. Non c'è savanna. Mi sono appena resa conto di questo. Lui ci bullizza un po' onestamente. Quindi non voglio parlargli. Perché inizialmente sembrava amichevole. Ma poi ho iniziato a mandare dei messaggi un po' sgradevoli. Quindi non mi piace. Ah. Devo usare di nuovo la cabina per le fototessere. Io quasi dopo ci riproverei. Perché quella foto è un po' imbarazzante. Mi piacerebbe una foto più carina. Ok. Poi dobbiamo anche ballare. Ma se proviamo a ballare un lento romantico. Dai. Proviamoci. Balla un lento romantico con Sidney. Perché potrei ballarlo con lui? E anche con Noah. Ma io non ho mai flirtato con loro. Scusatemi. Cioè almeno non ho questi ricordi. Vabbè. Potrei comunque fare un lento anche con loro. Qui c'è Alexander Goth. Va bene. Loro parlano. Questa chi è? Billy. Ok. Qua c'è Lucas Punch. Lei è... Ragazzi. Ma scusatemi. Ma lei è tipo la... Cos'è? Cugina di Archie? Che è la figlia di Judy. Allora aspettate. Perché adesso io devo ritrovare. Che qui c'è Jordan. Ecco qua. Judy. Eccola. Sì. È proprio la cugina di Archie. È diventata finalmente adolescente. Ma quanto è graziosa. Lei devo dare sicuramente un makeover. Ma è troppo graziosa. Adoro. Ok. Però io adesso vorrei ballare un lento con lui. Qui devo fare foto. Assolutamente. Guardateli come sono carini. No. Non foto. 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 Eccoli qua. I nostri due piccioncini. Ma guardate com'è emozionato il nostro Allen ragazzi. Guardalo. È adorabile. È veramente adorabile. Li adoro tantissimo. Veramente. Un sacco. Mi piacciono. Mi piacciono molto. Ok. Quindi questo penso che dovrebbe contare sia a balla che balla con qualcuno. Suppongo. Che succede qui? Amore amaro. Allen credeva che la cabina per fototessere fosse il posto giusto per farsi avanti. Ma ha rimediato solo una lezione imbarazzante sui confini interpersonali. Oh no. Ah ma mi sa che adesso aggiungono. Come dire. Annuncino. Ecco qua la cerimonia dei premi del ballo studentesco. Vediamo un po' chi vince. Allora come sovrano penso proprio che vincerà Sydney. Non so più che altro il giullare. Lei invece chi è? Ah Olive Tinker. Ma lei è incinta? Perché aveva la nausea. Vabbè vedremo. Con la mia gente. Si sente fiducioso per via dei sim che ha attorno. Essere in presenza di persone conosciute è fantastico. Adorissimo ragazzi. Ok. Ok. Come il re del ballo ha vinto Sydney. Giullare invece è Grey. Arciuleta. Ok. Non so chi sia però. Lei? Sì. Lei. Guardatelo. Ma adoro. Ok. Benissimo. Ma hai mangiato tu? Ma scusatemi. Ma lui non è ISTJ. Lui ha la personalità INFP. Quindi gliela tolgo. Mi sa che c'è la mod rotta. Perché lui decisamente non ha quella personalità. Ragazzi. L'ho rifiutato. Ha rifiutato la rosa. No. Ma scusatemi. Ma. Non sto capendo. Non ci sto rimanendo troppo male. Non capisco. Abbiamo frainteso. Forse abbiamo frainteso. Come. Perché. È lui che ci ha invitati al ballo. Dichiera l'amore pubblicamente. E se provassimo. A rivelare la cosa. No. Secondo me. Lui giustamente si chiede. Ma. Ho fatto qualcosa di sbagliato. Sto andando bene. Vediamo che dice. Ho frainteso. Forse. Perché. Non capisco. O magari sapete cosa aspettate. Ce ne andiamo da soli con lui. Facciamo un gruppo. Facciamo. Aggiunge al gruppo. E ce ne andiamo. Un po' in disparte. Però fuori piove in realtà. Scena drammatica. Con la pioggia fuori. Io spero che non ci rifiuti. Facciamo. Vai qui. Insieme. Ragazzi. Io ci sto rimanendo malissimo. Ve lo dico. Cioè. Proprio malissimo. Allora. Andiamo fuori. È finito il ballo. Ti va di proseguire? Eh no. No. Aspetta. Tu non te ne andare. Cioè. Se lui se ne va. È veramente assurdo. Allora. Però sono venuti tutti qua. Io volevo parlargli un attimo in privato. Proviamo a chiedergli. Ma ho fatto qualcosa di male. Forse frainteso. Vediamo. Vediamo che cosa succede. Perché un po'. Che è successo? Oddio. Ragazzi. Ah ok. Perché si è resettato il posto. Dato che è finito il ballo. Ma che succede? Aspetta. Aspetta. No no no. Allora. Allontaniamoci un attimo. Ci mettiamo qui. Che c'è questa bella fontana. Facciamo vai qui insieme. Quindi ci allontaniamo dagli altri. E gli chiediamo. Se appunto. Lui ha fatto qualcosa di sbagliato. Ragazzi. Guardateli. Cioè. Io ho paura adesso. Lui è un po' nervoso. Lui. Lo vedo un po' in imbarazzo. O che magari. O che magari. Uscendo qui al ballo. Ha capito di. Non provare per Allen. Quello che pensava. Però mi pare strano. Non lo so. Proviamo a chiedere se sta andando bene. Cioè. Non capisco. Ho fatto qualcosa di male. Si è anche seduto. Ma a questo punto sediamoci. Lui è anche teso. Guardalo. No ragazzi. È la dolcezza. Non voglio che soffra. Però adesso è felice. È flertante. No. Mi sa che mi ha detto. Che va tutto bene. Sensazione di incoraggiamento. Per chi è a naspa. Domandandosi dove mettere le mani. L'incoraggiamento del partner. Di grande conforto. Forse gli ha detto. No. Guarda. È che. Essendo la prima serie. Ero un po' agitato. Mi devi. Mi devi perdonare. Quindi forse. Abbiamo frainteso. Ma nel senso opposto. A questo punto. Io farei. Rivela la cotta. Perché lui dice. Ok. Mi sono un attimino. Preoccupato. Perché sai. Tu. Mi. Mi piaci davvero. Andiamo un po'. Ragazzi. Che ansia. Però ha accettato. Ha detto anche tu. Mi piaci. Oh mio dio. Dai. Che graziosi. Proviamo a fare. Vediamo. Fatti avanti. Proviamo. a fare. Guarda nel profondo. Degli occhi. A questo punto. Io azzarderei. Con il primo bacio. È andato un po' malino. Questa cosa. Però. Ci proviamo. Anche se piove. Peraltro. Guardate lì. Maliamo. Dai. Ok. Avevamo soltanto. Frainteso. Il primo bacio. Ok. Vediamo un po'. Se lo accetta. No. Non c'è più. Ma come non c'è più il primo bacio? Allora. Aspettate. Vediamo di nuovo. Romantico. No. No. Non c'è più il primo bacio. Allora. Io lo prendo come un segno. Che dobbiamo prenderla lentamente. Ecco. Dobbiamo andarci piano con lui. Perché forse. Lui magari sembra così. Sidney. Un. No. Un duro. Però sembra più sicuro di sé. Eccetera. Però. Secondo me. Anche lui era molto nervoso. Questa sera. Ed è per questo. Che le cose sono andate un po' così. Però. Dai. Io sono contenta. Direi che possiamo fermarci qui. Con questo episodio. Volevo dirvi che. Dato che comunque. A metà marzo. Uscirà la nuova espansione. Io penso che con la legacy. Andrò un po' avanti. Anche io da sola. Perché comunque. Intanto volevo dare una. Tra virgolette. Conclusione giusta. Alla. L'adolescenza di Allen. Perché abbiamo visto tanto. Per la sua adolescenza. Quindi adesso andrò. Andrò un po' avanti. Arriverò. Alla. All'adolescenza di Daisy. Magari vi farò vedere un pochino. Anche la sua adolescenza. E poi andrò di nuovo. Avanti. All'adolescenza di Amelie. Così che poi. Potremo iniziare insieme. La quarta generazione. Con la nuova espansione. Ancora non so. Chi sarà l'erede. Però appunto. Vorrei vedere un po'. L'adolescenza. Anche delle due bambine. E poi decidere. E niente ragazzi. Quindi vi mando. Un bacio enorme. Vi ricordo di mettere mi piace. Di commentare. Di iscrivervi al canale. Se questo video vi è piaciuto. E noi ci vediamo. Al prossimo video. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.